Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. I Poo, una delle band più iconiche degli anni 60 e 70, hanno sempre mantenuto il loro segreto più profondo, fino ad ora. La storia di questa band inizia a metà degli anni 60 a Bologna, con Riccardo Fogli che entra nel gruppo come bassista, per poi diventare la voce solista. La loro musica ha conquistato l'Italia intera, dominando le onde radio e facendo registrare il tutto esaurito ai loro concerti. Le loro melodie hanno fatto crescere generazioni di italiani, trasformando i Poo in un fenomeno musicale e sociale. Nel 1973, quando sembravano essere all'apice del successo, Riccardo Fogli annuncia improvvisamente il suo addio ai Poo. Una decisione che ha lasciato i fan sgomenti e che ha suscitato molte speculazioni. C'erano voci di litigi e incomprensioni all'interno della band. Ma Fogli non aveva mai svelato i veri motivi della sua partenza. Fino ad oggi. In un'intervista esclusiva rilasciata a Il Corriere della Sera, il cantante ha finalmente rivelato il segreto che per tanti anni ha nascosto. Mi innamorai perdutamente di Patti Bravo. Ha dichiarato. Il produttore dei Poo non vedeva di buon occhio la relazione e mi mise di fronte a una scelta. O la ragazza o la band. Io scelsi di seguire il mio cuore e lasciai il gruppo. Questa confessione ha gettato luce su uno dei momenti più tumultuosi della storia dei Poo. Fogli ha ammesso che non è stata una decisione facile. Lasciare una band così amata e di successo è stato doloroso. E lui ha confessato che ha sentito molto la mancanza dei suoi compagni di band. Tuttavia, non si è mai pentito della scelta fatta. Perché, come ha sottolineato, nessuno può decidere della vita altrui. L'amore ha portato Riccardo Fogli a intraprendere un nuovo percorso artistico, che ha comunque offerto molte soddisfazioni. Questa rivelazione, dopo quasi 50 anni, dimostra la coerenza e la forza di carattere del cantante nel seguire il proprio cuore. Anche a costo di lasciare una delle band più celebri d'Italia. La sua storia continua a ispirare coloro che si trovano di fronte a scelte difficili tra amore e carriera. Dimostrando che, alla fine, è l'amore a guidare il cammino di ognuno. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.